WE ARE THE CHAMPIONS 3 ecc allora questo giornalino dei disegni spettacolari che a me non vi faccio vedere perchè sennò vi rovino la sorpresa contiene pure Avengers Assemble e Avengers AI capitolo 7 allora qua i disegnatori sono Jonathan Hickman e Hesad è quello che inventa la storia ed Hesad Rebic qua abbiamo Marvel Now hanno sbagliato Marvel Wow lo so Files qua possono vedere spiega questa qua la checklist e parli di tutti questi music e niente per questo video è tutto ci vediamo alla prossima